SIGEP 2018 Ci troviamo allo stand della torrefazione DMSPA e siamo in compagnia di Gian Andrea Dubini il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda che intanto invitiamo a salutare Grazie intanto dell'opportunità, un saluto a tutti i telespettatori Io come detto sono Gian Andrea Dubini e rappresento la terza generazione della famiglia Dubini proprietaria di DMSPA Torrefazione che proprio lo scorso anno, nel 2017 ha celebrato i suoi 90 anni Certo, l'azienda l'ha fatta nostro nonno nel 1927 Romeo insieme a sua moglie Emma ha dato vita a questo sogno nel mondo della torrefazione poi si è tramandata di generazione in generazione con il nostro padre che è subentrato negli anni 50 e poi noi negli anni 90 siamo tre fratelli proprio l'anno scorso a dicembre abbiamo fatto una grande festa un grande evento, un porte aperte per festeggiare i 90 anni che è un traguardo molto importante perché è un lavoro che facciamo con grande ambizione con grande determinazione con anche orgoglio di rappresentare un'azienda che da 90 anni è sul mercato 90 anni portati decisamente bene visto come vi presentate qui al SIGEP 2017 uno stand molto elegante, sobrio, non sfarzoso e con tante piccole novità intanto qual è la proposta oreca e micro-oreca che presentate proprio qui, in questa manifestazione? Certo, noi qui in questo SIGEP 2018 abbiamo deciso di presentare un po' tutte le nostre linee perciò una linea gourmet dedicata al mondo della pasticceria che è il marchio Torrefazione Dubbini perciò una linea dedicata esclusivamente ai maestri pasticceri con il laboratorio diamo un'esclusiva di canale perciò un marchio che si trova è una miscela che si trova solo nelle pasticcerie un'esclusiva di zona perché il pasticceri si senta parte integrante di questo gruppo e sia orgoglioso di avere un caffè che ha solo lui e tante altre iniziative legate a corsi, degustazioni con maestri pasticceri abbiamo collaborazioni importanti anche con dei pasticceri molto famosi proprio per abbinare molto il mondo della pasticceria al caffè ovviamente poi qui abbiamo portato anche il nostro brand principale che è Caffè di M che si rivolge invece a tutti i bar, ai ristoranti e anche alle pasticcerie che decidono di usare questo marchio con diverse novità legate al mondo delle mono origini oggi c'è tutto un mondo da riscoprire e qui facciamo assaggiare anche un'Etiopia particolare un Nicaragua insieme al voler far toccare con mano al cliente il nostro prodotto perciò uno stand innovativo dove sei a contatto completamente con il barista poi seguendo si vedrà in questa, vi faremo degustare se ci verrete a trovare in questa degustazione il percorso beh diciamo anche che nel caso in cui non possano perché la nostra intervista è indifferita in che modo possono riuscire a entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni sui prodotti, sul servizio offerto sull'offerta dedicata in assoluto al segmento pasticceria certo, noi ci troviamo a Padova dove abbiamo la nostra sede produttiva la nostra logistica però il marchio è in tutta Italia perciò il marchio Torefazione Dubini basta comporlo in qualsiasi motore di ricerca e si viene catapultati all'interno del nostro sito aziendale in ogni caso la casella di posta elettronica a cui poter far riferimento è info chiocciola dmattitude.com sì dmattitude.com è il nostro dominio che racchiude un po' tutto il nostro mondo e dove presentiamo tutte le nostre novità bene allora Gianandrea io ti lascio gestire i contatti che nel frattempo stanno degustando i prodotti preparati dai vostri baristi avete ben uno, due, tre, quattro, insomma un po' di bracci al lavoro sì abbiamo dei baristi molto esperti perché dm punta anche molto sulla formazione abbiamo un polo importante di formazione all'interno dell'azienda dove insegniamo veramente al cliente a sviluppare le maggiori qualità del proprio caffè e ti insegniamo tutto sia sulla materia prima che anche sul modo di trasformare di degustare il prodotto bravi, bravi perché la formazione crea cultura, crea interesse e sviluppa nuove metodologie per poter riuscire a estrarre in modo diverso e talvolta migliore il caffè e allora io nel complimentarmi per l'iniziativa e per la perseveranza con cui riuscite a far crescere l'azienda devo dire che 90 anni ve li portate bene grazie, 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 molte grazie a tutti e grazie a voi dell'opportunità noi nel frattempo degustiamo un caffè estratto dalle macchine Vittoria Arduino utilizzate dalla DM Caffè e poi ritorniamo con altre novità documentate con microfono e telecamera che sarà qui al CIGEP 2018 non andate via